Oggi non è più sufficiente fare un buon prodotto, ma è necessario personalizzarlo sulle esigenze del cliente, dotarlo di servizi adeguati e realizzarlo rapidamente. Quali caratteristiche il mercato richiede sui nostri prodotti? Innanzitutto avere un'ampia gamma, questo significa scelta, avere flessibilità produttiva per poter fare delle personalizzazioni, ordini in piccola quantità significa produrre ad esigenza, velocità di risposta, quindi il nostro cliente non ha scorte, qualità e prezzo misura il suo beneficio, le caratteristiche tecniche danno la performance del prodotto. Per rispondere a questo tipo di esigenze sono nate nel tempo diverse teorie, il lotto economico, la produzione in just in time, il postponement, il kanban, la produzione link. In realtà la soluzione possibile è sempre un mix di tecniche organizzative condite dal buonsenso da implementare su un allestimento produttivo che deve diventare necessariamente flessibile. per esempio se noi facciamo una curva ABC dei nostri prodotti una produzione a lotti può essere fatta su tutta la classe A, mentre una produzione per commessa può essere fatta su tutta la classe C. Ancora credo che noi siamo obbligati a passare dal concetto di reparto legato a produzione per alti volumi, vuol dire una suddivisione tayloristica del lavoro, una ottimizzazione dell'efficienza produttiva per ogni fase, poca attenzione al tempo di attraversamento che è rappresentato dal transito tra i vari reparti. Quindi da questo concetto di reparto al concetto di centro o isola di lavoro che invece lavora su dei bassi volumi, quindi avremo una suddivisione funzionale del lavoro, una ottimizzazione della flessibilità operativa e il focus è sull'insieme e non sulla singola operazione. Lo stesso discorso si può fare sul concetto di prodotto. Passiamo da un concetto monocratico, quindi l'ottimizzazione di tutti i componenti per costo e per funzione, la riduzione del minimo costo di distinta base ma che richiede alti volumi di componenti diversi, diventa invece un prodotto sistema, quindi componenti progettati per l'utilizzo su più articoli, alta attenzione alla componibilità per rendere massima la gamma, rapidità di alimentazione dei componenti e riduzione del numero di semi lavorati. Il modello sviluppato dalla nostra proposta, Logistic Mass, è di fatto una visione della fabbrica come fosse un layout logistico. Cosa significa? Che noi abbiamo un ingresso di materie prime che entrano nel magazzino relativo, quindi un'accettazione, ma da questo magazzino c'è poi una gestione che va ad alimentare l'ingresso dei vari reparti, i cosiddetti magazzini interoperazionali o aree di parcheggio delle materie prime per essere lavorati. A un certo punto avremo la lavorazione, quando il semilavorato è completato ci sarà un prelievo per portarlo nel magazzino semilavorati, da cui questo prodotto potrà andare a delle lavorazioni esterne, piuttosto che a ripercorrere un ciclo di parcheggio per un'entrata in un centro di lavoro, lavorazione, uscita dal parcheggio e arrivo al magazzino prodotti finiti, ottenendo poi la fase di allestimento per la spedizione dei miei ordini e la spedizione effettiva. Di fatto un ciclo logistico. Quali sono gli obiettivi a questo punto? Conoscere la posizione di ciascun componente semilavorato o prodotto finito, gestire l'alimentazione ai reparti, ai centri di lavoro con un flusso teso, coordinare le attività produttive e controllare il ciclo produttivo nel suo complesso. Di fatto abbiamo tre ingranaggi che ci consentono di gestire in modo semplice questo flusso. Il primo è il cosiddetto schedulatore, tutti ci ricordiamo delle vecchie tabelle a righe dei moduli ganti in cui si spostavano le commesse a seconda dell'avanzamento della lavorazione. Ecco, lo schedulatore non è nient'altro che la decisione di pianificazione della nostra produzione con dei metodi semplici di drag and drop in cui aggiungo, sposto e attivo le lavorazioni che io voglio che vadano in reparto nei centri di lavoro. Poi avremo un sistema di gestione operativa coordinato dalla pianificazione che deve alimentare i reparti, i centri di lavoro, le isole di lavoro e in ultimo una parte di monitoraggio delle nostre attività per capire qual è la lavorazione che sto attivando in questo momento, con che produttività la sto facendo e qual è lo stato di avanzamento produzione. Di fatto un flusso semplificato che diventa pianificazione, missione di prelievo per alimentare il centro di lavoro interessato a questa lavorazione, presenza del prodotto pronto ad essere lavorato, presa in carico nel centro di lavoro, lavorazione, materiale lavorato e disponibile a prendere il ciclo successivo che può essere un ciclo finale per la distribuzione oppure entrare in un nuovo ciclo di lavoro, in un altro centro di lavoro, in un altro reparto. Di fatto un sistema logistic mass è paragonabile a un trasporto ferroviario. Una ferrovia per funzionare ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di binari che rappresentano la descrizione del nostro flusso produttivo, ha bisogno di scambi che sono le regole attuative nel nostro ciclo operativo, ha bisogno di stazioni che sono i reparti, i centri di lavoro, i magazzini da cui vado a tingere i miei prodotti, ha gli orari che sono rappresentati dal nostro piano di lavoro, le destinazioni che sono le priorità che devo attivare per eseguire una certa lavorazione e in ultimo i treni che sono gli ordini che danno origine a tutto il flusso. Questo modello porta in realtà ad un unico obiettivo, creare valore in azienda. Creare valore in azienda significa soddisfare il cliente al costo più basso e nel tempo più breve. Interpretare questa equazione è l'esercizio sartoriale che Incas svolge ogni volta per tagliare l'abito su misura con la realtà aziendale che incontra. Logistic Mass guarda al flusso dei materiali per cercare di mantenere sempre teso il ciclo operativo, integrando aree di stoccaggio con centri di lavoro in modo semplice ed intuitivo. Più semplice da usare che da spiegare.